Trentino è un'iniziativa innovativa per ricollocare i disoccupati, un progetto di Confindustria e Agenzia del Lavoro. Danilo Elia. Si parte con una prova di due anni, fondi impresa, il fondo di formazione di Confindustria, una realtà che solo in Trentino mette a disposizione 1.700.000 euro all'anno. Le Agenzia del Lavoro uniscono le forze per offrire formazione mirata ai disoccupati trentini. Si tratta della prima volta che le risorse del fondo vengono impiegate per chi il lavoro non ce l'ha, spiega Marcello Lunelli, presidente fondi impresa Trento. Fondi impresa continua a fare il suo mestiere, quindi continua a fare dei corsi di formazione continua ai propri occupati. E nello stesso tempo l'Agenzia del Lavoro, selezionando tramite i suoi canali le persone non occupate, può partecipare in maniera separata agli stessi corsi di formazione. Le risorse formative di fondi impresa e la capacità dell'Agenzia di incrociare domande e offerte di lavoro potranno, si spera, aiutare nel primo anno fino a un centinaio di disoccupati a trovare lavoro. E non è così scontato che pubblico e privato trovino il modo di lavorare insieme. Riccardo Salomone, presidente dell'Agenzia del Lavoro. Pubblico e privato sono cose differenti e bisogna averne la consapevolezza, anche in un mondo così complicato come quello di oggi. Il privato ha degli obiettivi, il pubblico ha degli altri obiettivi. Si possono trovare punti di contatto, si possono trovare sinergie. La Convenzione tiene distinti i ruoli, conserva lo spazio di autonomia di ciascuno, ma mira proprio a rafforzare queste sinergie. L'obiettivo in caso di successo è mettere a regime la collaborazione e riprodurla su scala nazionale.